Buon martedì amici, eccoci qui con le novità del giorno, Salad Days numero 5, siamo in casa Giundo e un altro titolo Giundo, eccolo qua, voilà, Checkmate con il numero 5 anch'esso e poi Magic Press con un Boys Love molto molto spinto, eccolo qua, Shotline di Kyo e Kyo, vabbè, Kyo, che nomi. E poi abbiamo Skip Beat con il numero 40, sempre Magic Press naturalmente, poi Nippon Shock Edizioni con il numero 19, sì, eccolo qua, con tutto uno speciale legato alla Mythical Lady Oscar e poi, voilà, Scott X Gigazine con il numero 13 e passiamo a J-Pop, J-Pop con The War of Grady Witches con il numero 7, poi abbiamo, voilà, Skip and Loafer con il numero 7, sempre. Scusatemi se non cade tutto, poi abbiamo Kemono Jeanne con il numero 20, poi abbiamo Insomniac After School, eccolo qua, con il numero 11, poi abbiamo, voilà, i quattro fratelli Yuzuki con il numero 13, abbiamo, uplala, Danmachi Sword Oratoria con il numero 24, ed infine il mitico Dan Da Dan, ragazzi, con il numero 13. Ma non è finita qui, c'è ancora Star Comics con Ranking of Kings numero 8, mamma mia, forse uno dei miei più fumetti preferiti, sia per grafica che per storia. Poi abbiamo Rave con il numero 10 nella sua nuova edizione, poi abbiamo, voilà, Claymore con la sua, anche qui, nuova edizione con il numero 20, poi il bellissimo, divertentissimo e dolcissimo Kaiju Girl Caramel Eyes, poi abbiamo, ce la farà il nostro eroe, eccolo qua, Campus Kimetsu con il numero 3, le storie divertenti legate a Demon Slayer, e poi abbiamo Yuri Is My Job con il numero 9. Il penultimo numero, eccolo qua, The King Beast con il numero 7, ed infine, ragazzi miei, Shiki Morris, Not Just Acuti con il numero 8. Ragazzi, continuate a seguirci, tantissime novità stanno per arrivare, ciao! Ciao!